Dicevo adesso al mister, tu entri sempre a tutta, ce lo siamo detto in infinità di volte, però c'è un elemento che tu quando non la segni una punizione fai segnare un compagno. Si è avvicinato il turco, mi fa calci e ho visto l'angolo e ho detto difficile, le ho detto stai in aria e vediamo come si mettono loro, poi è stato bravo Brand che si ha messo, ha fatto un blocco lì e niente, ho fatto finta di calciare, l'ho visto dieci minuti fa, l'ho visto prima a Tolga e niente, abbiamo fatto gol e penso che io sono contento per lui perché poi alla fine siamo entrati benissimi tutti e due. Entri sempre con la voglia di spaccare il mondo, il rapporto gol assist minuti, il tuo è fantastico, ma come parlavamo anche col mister, tante soluzioni in attacco e sembra che tutti vi integriate bene, è una bella anche concorrenza che c'è. Sì, è una competizione sana, poi noi siamo sempre a morte con il mister, lo abbiamo pure dimostrato, quello che sta in campo, quello che entra, sempre diamo l'anima per la squadra e per lui. Lui ci dà le cose da fare, noi proviamo a fare al massimo e niente, è stato dimostrato, siamo andati in ventaggio, dopo stiamo perdendo, siamo entrati con tutta la voglia di vincere per il mister, di vincere per i compagni, anche per i tifosi che loro sono venuti a Roma e sono stati, non so, una ventina, non lo so, ma io ringrazio loro perché si sono fatto questo viaggio.